In Nature, un calendario 2021 creato da un'idea di Marianna Miceli, ambientato nel bellissimo Salento, in mezzo agli ulivi secolari, non solo un esercizio fotografico, ma un monito alla salvaguardia del pianeta. Siamo sul set di In Natural, il calendario 2021 targato Mad Mood Milano Fashion Week. Sono Martina Biondino e ho partecipato al meraviglioso calendario di In Natural e volevo augurare a tutti gli amici del TG Events un magnifico 2021. Ciao a tutti, sono Beatrice Rollo e ho partecipato al bellissimo calendario In Natural e volevo augurare a tutti gli amici di TG Events uno stupendo 2021. L'obiettivo appunto è stato quello di unire moda a natura e l'abbiamo fatto appunto realizzando accessori e styling 100% ecologici con un unico filo conduttore, quello di raccontare la storia di queste bellissime nymfe. Ciao amici di TG Events, sono Viola Ghibellini, ho partecipato al calendario In Natural e volevo augurare a tutti voi un buon 2021. Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Ornella Inglese e ho partecipato al nuovo calendario 2021. Vi mando un grande bacio e un buon 2021. Sono Veronica Corrente, ho partecipato alla realizzazione del bellissimo calendario In Natural 2021 e mando un bacio e auguro un nuovo e splendido anno a tutti gli amici di TG Events. Ciao a tutti, sono Viola Mario Martina, ho partecipato al grandissimo calendario In Natural e sono qui per salutare tutti gli amici di TG Events e augurarli un felice anno nuovo. Un saluto agli amici di TG Events, io sono Yuma e ho partecipato al calendario di In Natural e volevo augurarvi un buon e speranzoso 2021. Seguiteci perché poi tutto il ricavato del calendario sarà devoluto a cuore amico, quindi non solo un inno alla natura e al salento ma anche tanto tanta beneficenza. It's a bravo! E allora correte a comprare il calendario In Natural, parte del ricavato sarà devoluto alla Onlus, cuore amico, a sostegno di tutti i bambini malati. Andrea Biandrino, TG Events Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.